a voi tutti cari telespettatori l'augurio di una buona giornata e buon inizio settimana ma inizia la settimana inizia il mese siamo al 2 di ottobre insomma tanti inizi e allora cominciamo con anche noi la rassegna stampa con il calendario del giorno oggi la chiesa ricorda i santi angeli custodi i santi angeli custodi come diceva san basilio ogni fedele ognuno di noi accanto a sé un angelo come tutore e pastore per portarlo alla vita il sole è sorto alle 7 05 tramonterà le 18 50 il cielo questa mattina sarà inizialmente nuvoloso poi via via nel pomeriggio a partire dalla costa migliorerà avremo nelle ore centrali comunque della giornata rovescio temporali sparsi nelle zone interne della regione Marche e soprattutto sulla parte centro meridionale della regione e le temperature saranno in aumento nei valori minimi per quanto riguarda la giornata di domani martedì 3 avremo cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura in serata possibili deboli isolati piovaschi lungo la fascia costiera soprattutto domani sera in aumento le temperature soprattutto quelle nei valori massimi il tempo sarà buono invece nella parte centrale della giornata mentre tornerà a peggiorare nella giornata di sabato cominciamo allora con i giornali vediamo il resto del carlino questa è la fotonotizia il risico degli hotel archiviata una stagione turistica una stagione estiva favorevole stiamo a peso naturalmente la prossima propone grossi cambiamenti con passaggi di mano aste e ristrutturazione dunque parlano i titolari poi sulla flaminia a calcinelli c'è stato un incidente ieri mattina e paura per un settantenne che si ribalta in auto estratto dai pompieri tutto questo troverete nella pagina interna del carlino poi l'inchiesta per abuso di lizio della remsa di fossombrone asur indagato l'ingegnere e per la barnese l'assessore fanese tutti solidali la giunta fanese blinda l'assessore parla di persona onesta intanto la guardia di finanza sta spulciando anche i contratti sulle società che forniscono le ambulanze e andiamo adesso nelle pagine interne dunque ripartiamo da questa notizia la sanità la sanità nel mirino asur è indagato anche l'ingegnere questo è il titolo a pagina 3 del resto del carlino oltre all'assessore fanese barnesi i giudici guardano agli appalti per le varie ambulanze la procura di orbino lo accusa di abuso edilizio per la remsa di fossombrone il direttore giovanni fiorenzuolo è sconcertato per le tante inchieste il comitato un comitato di cittadini e contro l'ospedale psichiatrico quasi quasi ultimato e sotto la reazione del sindaco del sindaco ma anche del partito democratico professionista onesta parlano così dicono così di della della dell'assessore barnesi e i grillini dicono invece se ha delle ombre insomma si dimetta questa è la notizia e comunque c'è tanta solidarietà sul su questa vicenda poi dicevamo di questo incidente sulla vecchia flaminia lungo la vecchia flaminia un'auto che sbanda si schianta contro un muro si ribalta su un fianco un pensionato 70enne estratto dall'abitacolo per fortuna non è grave è successo ieri mattina poco dopo le sette lungo la flaminia vicino a calcinelli all'ingresso di calcinelli tra lucrezia e calcinelli mentre come vedete sulla sulla parte in alto del del giornale è morto enzo tamburini storico meccanico per tutti era il tedesco perché nel mettere a posto un motore era severo enzo tamburini storico meccanico prima della opel poi della fiat con l'officina la tombaccia di pesaro era un uomo dal cuore d'oro oggi alle 18 e 30 ci sarà il rosario per lui nella chiesa di santa croce poi domani alle 10 domani mattina i funerali andiamo adesso invece sempre su questa pagina sotto c'è la notizia che sui disordini al g7 è stato arrestato anche un 23enne pesarese il padre dice io non so ancora perché che cosa abbia fatto anthony pecoriello è in carcere per resistenza alla polizia da award a fano per spiegare la mente oggi c'è un convegno con il professor john gonderson organizzato dall'asur raramente il professore viene in italia per questo l'incontro a fano è l'unico che fa a livello nazionale la pagina invece d'apertura del corio adriatico eccola qua quella di pesaro integrazione dei migranti pesaro farà da pripista il prefetto pizzi convocherà le associazioni degli imprenditori il piano del ministro miniti è già stato avviato del parco del parco che dovrà sorgere a fano 45 ettari di parco ci saranno anche orti prati e zone di rimboschimento nel progetto per l'area dell'aeroporto strutture educative ludiche ci sarà anche un laghetto ed un chiosco c'è anche spazio per lo sport che vedremo tra pochissimo nelle pagine interne con una battuta d'arresto per quanto riguarda la vis e il fano che continua purtroppo a perdere ma apriamo adesso la pagina del corriere di fano mi considero un ponte vivente sabanglana rivendica dignità l'africa chiama la premia per l'impegno nel mio continente dice lei eventi interessanti e poi il polmone verde attrezzato visto dall'alto pubblicato sulla pagina 11 del corriere ecco il laghetto le strutture del chiosco questo appunto è il progetto per il parco all'aeroporto di fano dello studio silva di bologna che ha vinto un bando che è stato indetto dal partito democratico da urbino una rinascita per le cesane 400 mila euro dalla regione marche l'annuncio di traversini per presidente della commissione agricoltura a urbino capoluogo 400 mila euro per le cesane che ricorderete qualche mese fa sono andate durante l'estate quest'estate affosa è andata distrutta dalle fiamme dalla valle del cesano si parla della fiera del mercato del tartufo della fiera nazionale che c'è stata con migliaia di visitatori per l'apertura a pesaro a pergola c'è anche pippo franco ve lo faccio ecco ve lo evidenzio con il blu anzi facciamo con il con il giallo accanto alla sindaco anzi ad alcuni sindaci tra cui anche francesco baldelli che è il sindaco di pergola e di fianco sulla sua destra sulla destra di pippo franco anche varotti ma vediamo anche altri altri sindaci fossombrone sant'angelo in vado spaccio in centro siamo sulla cronaca e la pagina di senigallia spaccio in centro e vandali giù le serrande del negozio situazione peggiorata in poco tempo addio al locale in piazza 4 agosto ma c'è anche la fotografia di una tartaruga morta trovata di 40 chili che è stata rinvenuta ieri sulla battigia di fronte al lungomare mameli a senigallia mentre la storia della nonnina che ha fatto certamente il giro dell'italia a osimo sulla cronaca di osimo peppina torna nella sua casa nella sua casetta di legno l'anziana di fiastra non sarà allontanata almeno fino a venerdì ha trascorso solo una notte dunque a castelfidardo niente sfratto prima dell'udienza al tribunale del riesame e adesso velocemente diamo sguardo ai titoli dello sport per il fano è crisi nera scrive il corriere adriatico brutto scivolone interno di granata contro il ravenna che vince grazie ad un gol della domenica la squadra di cuttone in cassa la quarta sconfitta consecutiva adesso è penultima in classifica il fano che ha perso dunque in casa 1 a 0 contro la squadra del ravenna mentre il carlino titola l'alma fano in caduta libera quarta sconfitta anche ravenna passa il mancini con il gol della domenica di papa allarme rosso non cambia il copione per germinale e soci mentre dalle pagine del corriere adriatico sulla vis vis sgonfiata da amaulo si ferma pineto il record di vittorie consecutive persa anche la vetta ora c'è il campo basso il tecnico san giorgese ed ex vicino sorride con una doppietta di gragnoli inutile la rete di radi il risultato è di 2 a 1 per il pineto e infine la pagina dedicata al basket vl mancano due minuti ma erano quelli decisivi buona partita della squadra di leca ma brescia alla fine sorpassa e vince la vl che ha perso in casa pesero contro germani 70 a 73 bene ci fermiamo qua il la nostra segna stampa è finita vi ringrazio per seguito e vi ricordo che al 338 49 68 250 questo è il nostro numero di riferimento della redazione potete inviare con whatsapp le vostre foto le vostre segnalazioni i vostri video oppure semplicemente messaggi di testo noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti